Dopo una bella corsa ci vuole proprio qualcosa di buono da mangiare, ad esempio delle belle verdure. E' il nostro coperchio per la cultura a vapore che consente di cucinare in modo semplice, veloce e delicato tutti gli alimenti che più preferisci, risparmiando tempo ed energia e guadagnando in salute e benessere. Praticamente è una pentola a pressione. Non funziona a pressione, EasyQuit cucina a temperatura controllata tra i 97 e 99 gradi centigradi e tu puoi sollevarla e richiudela tutte le volte che vuoi. Cosa si potrebbe cucinare? Fammi qualche esempio pratico. Niente di più semplice. Mi hai detto che ti piacciono le verdure. Con EasyQuit puoi preparare anche le verdure ripiene, oppure piatti a base di pesce, marmellate, composte, salse, sughi. Insomma, si possono preparare tantissimi tipi di ricette. Sono buonissime! Se vuoi saperne di più chiedi pure al tuo consulente IMC di fiducia o vai sul sito www.amc.info